Il fossa è un animale carnivoro che vive solo in Madagascar. Questo predatore, nonostante le dimensioni ridotte, domina la catena alimentare cacciando quasi ogni specie di animale presente sull'isola. Si muove con grande velocità, ed è molto agile nell'arrampicarsi sugli alberi. Il fossa è considerato una specie per quanto sta perdendo il suo habitat, meno dell'1% della superficie originale della foresta del Madagascar, punto sua unica casa, si è conservata fino a oggi, anche questo predatore a rischio estinzione. Il fossa è considerato una specie per quanto sta perdendo il suo habitat, a a a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.